Le persone devono capire che il bene della Madonna del Parto non è stare in questo luogo ma dargli una collocazione dignitosa che risponda a tante esigenze culturali, artistiche e anche di promozione turistica. La Madonna del Parto, il capolavoro di Piero della Francesca, dovrà traslocare dal centro del paese di Monterchi nella chiesa nella quale viene dipinta dal maestro della prospettiva. Questo quanto stabilito dal Tar della Toscana con una sentenza che già ha acceso polemiche. Ha stabilito che la pertinenzialità della fresca della Madonna del Parto con questo luogo, quindi con il luogo originario dove era stata dipinta, quindi nella zona cimiteriale del comune di Monterchi. Il capolavoro di Piero della Francesca dal 1992, dopo una lunga battaglia giuridica, si trova nell'ex scuola elementare di Via della Reglia, in un piccolo museo a lui dedicato. Che è stata ristrutturata anche recentemente, sono stati fatti importanti lavori, è stata fatta una sala video, sale didattiche, quindi è un luogo dignitoso. Secondo il Tarla Fresco dovrebbe essere spostato qui, ovvero nel luogo che fu indicato ormai tanti anni fa da Ministero e Sovrintendenza, la chiesa di Santa Maria Momentana. Questo luogo come vedete è piccolissimo, è una cappella di pochi metri quadrati, che non può certo ospitare la Madonna del Parto, quindi in un museo adatto all'importanza di un'opera d'arte e a quelle che sono poi tutte le necessità per ricevere i turisti, per accoglierli in un modo dignitoso. Il comune adesso è pronto a ricorrere al Consiglio di Stato. Ora ci incontreremo anche con i nostri legali, quindi penso che noi non lasceremo passare in giudicato questa sentenza.